salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video oggi vi spiego come livellare molto velocemente su diablo immortal e questa cosa vale sia per fare il 60 ma anche per i paragon level vi dirò sostanzialmente qual è il metodo più efficiente per arrivare al 60 e quindi perdere meno tempo possibile e poi quali sono le attività che vi fanno guadagnare livelli di battle pass molto più velocemente perché il battle pass è fondamentalmente il metodo più veloce per livellare in questo gioco quindi questa schermata sarà importante ma prima di tutto vorrei spiegarvi come funziona la questione è una cosa che ho imparato chiaramente col tempo dopo tante ore di gioco e fondamentalmente ho perso dell'exp non sapendolo prima infatti praticamente ogni attività che voi andrete a fare in diablo immortal che piano piano si sbloccherà all'inizio avete poche cose ma poi ne avrete tantissime di attività vi dà dei punti battaglia per il battle pass alcune ve ne danno poche 8 alcune di più 15 tipicamente i dungeon poi ci sono le missioni ci sono achievement che si vanno sbloccando e iada 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 ma fondamentalmente tutti questi punti vanno dentro il battle pass per guadagnare livelli di battle pass che banalmente sembra che vi diano solamente risorse punti talismani e quant'altro ma in realtà ogni livello di battle pass vi dà egualmente quasi l'80 per cento di un livello del vostro personaggio questo cosa vuol dire che quando iniziate a giocare immortal vi conviene non riscattare praticamente mai i punti che andate accumulando nel codex che poi verranno riversati dentro il battle pass non perderete nulla tutto si accumulerà sia che facciate varchi incarichi achievement particolari oppure dungeon tutto si accumulerà tutto rimarrà in attesa che voi riscattiate questo perché ve lo dico perché mentre nella xp dei livelli chiaramente ogni livello richiede più xp per i livelli del battle pass tendenzialmente ci vogliono sempre gli stessi punti 180 più o meno forse i primi livelli anche di meno in realtà quindi se voi riscattate livelli di battle passa troppo presto state fondamentalmente bruciando dell'xp che vi servirà nel lungo periodo questo perché la storyline principale la storia principale non copre tutto il leveling dall'1 al 60 anzi non lo fa per niente ci sono dei buchi di xp enormi dove a un certo punto vi chiede un livello necessario per proseguire la storia nei primi 10 20 livelli non si nota tanto ma dopo il 30 si nota tantissimo e dopo il 40 ancora di più e dopo il 50 ancora di più a quel punto voi dovrete fondamentalmente farmare altre attività per raggiungere quel livello tale da poter continuare la storia se voi vi conservate appunto tanti punti da riscattare per poi fare tutto insieme alcuni livelli del battle pass potrete fare anche due tre quattro livelli in pochissimi secondi semplicemente riscattando questo è un consiglio fondamentale per non perdere tante ore e risparmiare tante ore ora vi dico quali sono le due attività che vi fanno guadagnare più punti rispetto a quanto ci vuole a farle a livello di punti battaglia perché per esempio i varchi antichi vi fanno guadagnare 8 punti battle pass e per fare un varco antico più o meno ci vogliono 5 minuti 6 minuti sono quelli in cui bisogna inserire i talismani per avere più loot possibile in modo simile gli incarichi vi danno 8 punti battle pass e sono quelli che ne potete fare 8 al giorno quando li sbloccate qua nella bacheca ma in realtà ci sono due dungeon in particolare che sono abbastanza corti e che vi danno 1 15 e 1 20 punti battaglia ogni run che fate questi sono quelli migliori se volete andare velocemente farmare velocemente livelli per il battle pass se siete di basso livello dovreste fare sempre la breccia del re folle che è in realtà il primissimo dungeon possiamo dire con il re folle appunto che incontrerete nella primissima zona è abbastanza corto tutto sommato è abbastanza veloce da fare e vi dà 15 punti battaglia per ogni run penso che la possiate fare più o meno in una decina di minuti e qui nella primissima zona dove c'è il cimitero e tutto quanto e vedete già c'è un po di gente che attende però quando siete un pochino più in alto di livello c'è in realtà il dungeon definitivo quello che vi permette veramente di andare molto veloce e fare se siete veramente velocissimi anche un livello di battle pass ogni ora circa il tempio di namari perché il tempio di namari vi da 20 punti battaglia pass quindi mi bastano 9 run per fare un livello di battle pass ed è uno dei dungeon più corti del gioco in assoluto ci sono una manciata di mob da fare e poi 234 boss di fila alla fine se siete in gruppo e potete anche andare addirittura velocissimi a farlo anche in 5 minuti 6 minuti questo è sicuramente il metodo più veloce per fare livelli di battle pass che equivale anche a fare livelli del vostro personaggio e questo vale chiaramente sia per fare il 60 ma vale anche dopo il 60 quando dovete fare dei livelli di paragon chiaramente farlo magari lo stesso contenuto in continuazione anche se è molto nello stile di diablo può essere noioso lo immagino però se volete la massima efficienza è questo il metodo tant'è che probabilmente troverete un sacco di persone qua davanti sempre a fare questo tempio di namari questa è la cosa più veloce che io vi consiglio poi chiaramente potete fare varchi potete potete fare incarichi potete fare un po di tutto in realtà qualsiasi attività vi dà punti battaglia più o meno o xp però sicuramente queste due cose mettetele in conto conservarvi i punti battaglia per fare i livelli del battle pass quando avete i blocchi di xp durante l'160 e poi farmare namari o breccia del re folle per fare tanti punti battle pass e quindi i livelli battle pass che poi vi serviranno anche ovviamente per avere tutte le reward fino al livello mi sembra 40 del battle pass detto ciò spero di essere stato chiaro se avete domande scrivetelo sotto nei commenti per questo video è tutto ragazzi vi saluto una buona giornata e come sempre rimanete sintonizzate per altri video qua sul gaming ci vediamo alla prossima ciao ciao